sono qui è un attimo che forse un po troppo basso ok potarsi andare forse mi vedrete ok ciao a tutti come state vabbè oggi vabbè sono le 10 e mezza quindi vabbè è tardi cioè di mattina ovviamente non di sé venerdì 20 ottobre oggi come state spero che mi vedo davvero tanta bene sì ho qui questo pigiama se vi interessa è a castoro come potete vedere c'è la coda e tutto e sono qui a farvi questo video non so sinceramente che video girare quindi consigliatemi perché ho appena fatto un video sulle agende le midori che ho fatto sono la che non sono classiche mafolino qua c'è il mafolioni bell'amore è arrivato il melodia sulle midori che ho fatto il video semplicemente è una settimana praticamente sì da lunedì l'ho registrato lunedì che lo sto caricando sul computer lo faccio andare tutto il giorno la notte lo spengo il giorno dopo si riprende dal giorno non prima quindi cioè tipo è arrivato al 20 per cento che lo spengo il giorno dopo dal 20 per cento continua lo spengo al 40 che adesso forse è all'80 e qualcosa per cento a questo pigiama se vi interessa io l'ho comprato da max factory al eco l'ho pagato 20 euro guardato anche su aliexpress più o meno il prezzo è quello quindi ci può stare allora è davvero molto comodo cioè è comodo per stare in casa e così cioè se volete rilassare ovviamente se volete fare le pulizie no cioè se volete fare le pulizie mettetevi pantaloncini corti la maglietta maniche corte e tutto quel che ne consegue cioè mettetevi bene per fare le pulizie no no non abbagliare anche tu sta qua ma fino 3 4 ecco quindi tutto quello che ne consegue invece se volete stare in casa rilassare guardare la tv così ve lo consiglio allora io stanotte ho provato a dormirci non essendo abituato tira un pone ho preso un xl è grande come potete vedere è bella c'è è bella ampia semplicemente di maniche mista giusta sta un po corta qua di gamba è giusta beh qua c'è la coda che un po imbottita per quello è tutto a posto cosa potrei dirvi poi parte che sto caricando quel video lì e come va voi innanzitutto vi auguro un buon autunno perché forse sta arrivando cioè un mese in ritardo forse arriva l'autunno si adatta proprio un mese perché domani è il 21 il 21 settembre dovrà iniziare l'autunno comunque forse un mese in ritardo sta arrivando l'autunno a cosa vi consiglio se siete se avete caldo come me potete metterlo così invece se avete un po più di freschetto magari sotto mettete una maglietta intima così ovviamente io ho le mutande perché è ovvio cioè le mutande registri non dipende se come siete abituati a dormire o no non siete abituati ed abituati non so se avete mai capito che si può fare le poche però non sta niente quindi cos'è che potrei ah ho portato su dal garage i peluche che avevo tutti i miei peluche ma ce n'erano altri dentro che erano tipo di mia nonno o di mia cugina quelli li ho riportati giù in garage i miei invece li ho messi tutti qua esposti in camera sono stupendi vabbè ne ho pochissimi rispetto alla sabri gamer ce ne ho due no quanti ne ho uno due tre quattro cinque sei sette otto no dieci 11 12 13 14 15 16 17 vabbè 17 una ventina forse perché alcuni non ne vedo che sono in alto dietro sulle scatole melody melody volevo chiedervi ah ho visto la ragazza quella che mi ha chiesto la recensione delle pimpon favole ecco semplicemente in questo momento sono un po' tirato e non vado tanto dal alato i center come potete vedere dagli ultimi video me l'hai richiesto sul video dalle pimpon di non so che giorno no 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 anche tu anche tu no tu stai qui stai qui tu vieni qua fatti vedere da tutti fatti vedere da tutti eeeh cosa che volevo dire si cosa stavo dicendo? il prematino mi sono dimenticato di tutto eeeh ah si del pinipon videoback ecco mi finì un po' favole quindi se ammai vado dalla tua center li trovo potrai comprare dato che costano poco ne prendo due o quattro dipende la mamma quanti soldi mi da tanto costano solo 5 euro quindi 4 20 euro si può fare dipende e le vedo se vi interessano ancora le recensioni di giocattoli ditemelo cioè che io le faccio volentieri poi cosa potrei potrei farvi vedere tutti i peluche che ho qui ma non so quanto vi possa interessare e poi 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 scusate anche se non sono molto attivo e brillante ma sinceramente non so cosa dirvi volevo fare un video semplicemente così per chiacchierare con voi per chiedervi come va come non va tutto dicemi come va come non va cosa avete fatto di bello se avete comprato qualcosa che vi piace se avete adottato un cagnolino avete adottato qualcuno in Africa non lo so ditemi quello che volete tutto quello che volete che tanto a me piace sempre leggere tutti i vostri commenti c'è io per sul canale proprio per avere qualcuno che mi iscrive e così poi se non rispondo perché alcuni sono commenti cioè a cui risposto troppe volte ok però ad altri magari non rispondo perché non lo so a volte proprio non lo so perché non rispondo comunque cosa si potrebbe fare se mi si vede qualcosa ma hanno fatto i bottoni cioè non hanno sormontato abbastanza la stoffa e quindi tende a fare questo effetto così va bene ah volevo farvelo vedere per bene dietro è stupendo perché è fatto così che ci sono tutte le righe proprio del dallo scogliato lo sono faccia questo ha detto mia mamma che si chiama ciniglia e boh e niente ditemi appunto se volete vedere qualche video se vi interessa oppa questa melodina oppa oppa ecco questa melodina se vi interessa magari se vi interessa vedere qualche video in particolare e cosa potrei ah se vi interessa il video dalle delle midori cioè come le creo sempre quando vado a prendere materiali e tutto che sei seduta sulla coda e quindi noi ci vediamo al prossimo video ciao